Perchè non raggiungi la faccia, non la batti veloce? Dai, è da solo! Non sbagliano niente, non... Oddio, oddio! Ehi, mamma mia! Ah che cazzo! Ehi, bravo! Ehi, bravo! Ehi, bravo! Ehi, bravo! Oh! Oh, ma... Vai, la mente è anneviata! Ehi, adesso... Guarda che roba! 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 Ah, per forza! Grazie a tutti.